La Fondazione Golinelli è convinta che i tratti del volto del futuro possano scatturire anche dal potenziamento di quel comparto scientifico che noi chiamiamo scienza computazionale. L'esame di moli di dati straordinarie e gigantesche in verità nasconde non solo quello che è stato, ma nasconde anche le tracce di quello che sarà. Per questo la Fondazione Golinelli ha cercato di fare da enzima, da motorino di innesco, alla nascita di una scuola di dottorato in scienza computazionale e big data, coinvolgendo l'Università degli Studi di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Cineca, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quant'altro, perché è convinta che da una grande alleanza degli attori protagonisti in questo campo dove l'Italia vanta delle eccellenze assolute può diventare determinante non solo nella formazione dei giovani, ma anche nel costruire le strategie giuste per poter entrare consapevoli nel futuro.